Un luglio nerissimo per l'aeroporto Fellini di Rimini, lo scalo riverasco con un nuovo consiglio d'amministrazione alle prese da tempo con pesanti difficoltà economiche marca un a meno 28,9% rispetto allo stesso mese del 2012, numeri imbarazzanti. I passeggeri a luglio sono stati 78.706, davvero un'inerzia e comunque alimentati dalle sole tratte internazionali visto che l'aeroporto riminese non ha più collegamenti nazionali. Per trovare un mese più fiacco si deve risalire addirittura al 2009, a quattro anni fa dunque quando i passeggeri in arrivo in partenza dallo scalo che si trova sulla Flaminia furono 65.556 e a fine anno il Fellini chiuse con 383.000 passeggeri, numeri che il nuovo presidente di Aeradria e la società di gestione dell'aeroporto riminese Maurizio Tucci in sella da un paio di settimane dovrà presto valutare con il rinnovato consiglio d'amministrazione per trovare in fretta una chiave di rilancio per lo scalo riverasco, importante punto di riferimento per l'economia dell'intera Romagna dopo la chiusura dei ridolfi di Forlì e un assist in proiezione futura potrebbe essere offerto dai volicargo che nei primi sette mesi del 2013 hanno registrato un saldo positivo del 31,4%, unico dato in crescita. I numeri del Fellini restano pesanti e non si limitano al solo mese di luglio riguardando l'intero primo scorcio dell'anno, nei primi sette mesi del 2013 infatti sono 319.361 i passeggeri con un calo del 35,5% rispetto al 2012, obiettivo per l'aeroporto riminese e per altro contenuto nel piano industriale presentato con la richiesta di concordato è quello di chiudere l'anno sotto alle 600.000 presenze, risultato alla portata dello scalo riverasco anche se l'impressione resta quella che ci sia ancora tanto da lavorare.